Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petrugro del Tanke e questo è il nuovissimo video che faccio Questa volta siamo su Call of Duty World War 2 Allora, oggi vi porto una partita vecchia, facciamo questa premessa Perché è una partita del 28-11, 28 novembre Il gioco era appena uscito, io ci mettevo le mani sopra da pochissimo Quindi come potete vedere sto usando un'arma che adesso non uso più, ho già adorato Che è il Waffe e come secondaria uso il cecchino Lee Field, qualcosa del genere Dopo quando cambio arma lo vedo perché non me lo ricordo Comunque sono tutte e due armi che adesso ho adorato e non uso più Noterete che questo gameplay è un po' scarso Perché è vero che farò un buon punteggio alla fine Ma tanti movimenti, tanti modi di giocare, tante cose che ignoro Sono da giocatore nabbo, da scarso, no? Da giocatore che ha appena iniziato e appena ripreso a giocare a COD Quindi vi faccio la premessa che in questo momento Perciò a marzo del 2018 non sono più così È cambiato il mio stile di gioco, sono cambiate le armi che uso E di conseguenza quando vi porterò dei gameplay saranno migliori E qua arrivo al primo punto di cui vi voglio parlare Vorrei riniziare a portare un po' di Call of Duty sul canale Perché inizialmente io portavo Call of Duty sul canale Potete vedere dai primi video che ho messo Perché avevo iniziato portando MW3 e Black Ops 2 se non erro Poi dopo ho smesso perché mi sono appassionato di Minecraft e roba del genere Tipo lì, se non sbaglio, ce n'era uno a sinistra che non ho visto Adesso vediamo Comunque, parlando di nuovo di COD Avevo cambiato il modo di portare Vedete, eccolo qua Era quello di cui parlavo Ho cambiato il modo di giocare, il modo di portare le cose Che schifo, guardate E insomma, ho cambiato lo stile di youtuber che ero Adesso però ho pensato Cavolo, World War 2 è proprio bello Perché non riportarlo? Visto che comunque sono migliorato Visto che mi sto divertendo un sacco a giocarci Mi sembrava il caso di riniziare a farvelo vedere sul canale Quindi, guardate il sondaggio che vi ho messo adesso Qua in alto E rispondetemi se volete che porti qualche video Su World War 2 O comunque in generale qualche video su Call of Duty Senza troppo impegno Senza fare grandi serie o grandi cose Quindi solo portando qualche video In merito a questo gioco Perché è una cosa che a me piacerebbe fare E voglio capire se a voi può interessare Tra l'altro ho anche un sacco di Supply Drop Di, diciamo Pacchi da aprire Ma che ho tenuto lì per vederli con voi Solo nel caso però vi interessasse Quindi scrivetelo nei commenti se vi interessa Continuando a parlare Vi dico anche un'altra cosa Il motivo per cui non ho messo la Fescam oggi Perché non ha senso Nel senso, il gameplay che state guardando adesso È vecchio Quindi, o Cioè, adesso lo commento Guardate quanto è che ho fatto Due Lo commento con voi Ma niente di più Non c'è bisogno di vedere la mia faccia Le altre volte quando giocherò Se giocherò in live ovviamente Metterò la Fescam Se giocherò e poi dopo magari commenterò La metterò Guardate che smirata Vedete tante brutte cose Che vi faranno rabbrividire Soprattutto se sapete giocare A code in questo gameplay Era solo per mettere qualcosa in sottofondo Mentre parlavo Guardate qua Mi viene in mano anche a me E niente Parlando di altro invece Voglio spiegarvi il motivo per cui Questa settimana È uscito un solo video Cioè quello del Cartoon X Di confondere i cosplayer Tra l'altro molto bello Molto apprezzato anche da voi Ve lo metto qua in alto in descrizione E non è uscito Né un video di una terra di Steve Né un altro video Ne uscirà, scusatemi Un altro video Questa settimana Oltre questo qui Vi spiego Come vi avevo già detto Io sono Un universitario E in questo momento Sono di nuovo in fase d'esame Perché Si ripetono in continuazione Le fasi d'esame Non c'è mai tregua Di conseguenza Non riesco tanto A star dietro al canale E Inizierò a portare Un video settimana In questo periodo però Quando finisce E dopo riprenderò A portarne due Ok Vi voglio parlare anche Del fatto E del mio modo Di Star dietro a Youtube Perché io conosco Uno Youtuber Anche qua l'ho mancato Ma che palle Conosco uno Youtuber Che mi ha detto Guarda io Dedico tutto il mio tempo libero Al canale No? Adesso non vi dico Chi è questo Youtuber Perché non l'ho conosciuto Come Diciamo Per avere interessi personali L'ho conosciuto Perché mi andava Di conoscerlo E io mi differisco Dal suo comportamento Perché Lui Tanto di cappello Per quello che fa Perché Se è un appassionato Di Youtube Come lo sono io In realtà Ma E se riesce a dedicarci Tanto tempo Io Non posso far altro Che dirgli Complimenti E infatti i risultati Si stanno vedendo Sul mio canale Io però Sono un po' differente Differisco un po' Da quello che è lui E da quello che è Il suo comportamento Infatti Io preferisco Dare più spazio Agli affetti Dare più spazio Alle amicizie Piuttosto che Al canale E in ottica del canale Io sbaglio Assolutamente Però Non vedo Niente di male A preferire Le amicizie Gli amori I miei genitori Eccetera A Youtube Di conseguenza Visto che non lo sto cercando Di far diventare un lavoro Vi sto dicendo Che tante volte Non gli darò la precedenza Ecco Comunque Ovviamente Avrà tutta la mia La mia attenzione Avrà tutto il mio interesse Perché Come vi ho detto È una passione E poi Anche voi Che fate parte Comunque Della famiglia di Youtube Siete importanti Per me Ok E Un'altra cosa Di cui vi voglio parlare È che Quando sono andato Al Cartoon Mix Cioè settimana scorsa Che poi vi ho messo Il video che avete visto Quello di confondere I cosplayer Ho fatto un altro video Un video di presentazione Un video di descrizione Del canale E scusatemi Di descrizione del Cartoon Mix Che però non ho ancora montato Perché non ho avuto Assolutamente tempo Solo che Visto che non l'ho montato subito E il Cartoon Mix Ormai sarà passato Da una settimana E più Quando lo metterei Vi chiedo Secondo voi Ha ancora senso Che ve lo monti E ve lo faccia vedere O Per questa volta Basta quello De confondere i cosplayer E La prossima volta Quando andrò a un'altra fiera Magari mi impegnerò Per fare due video Fatemi sapere Anche questo nel sondaggio Perché assolutamente Mi interessa Perché Si tratta Della programmazione Sul canale Comunque qua Adesso potete vedere Che ho finito La partita è finita 18-3 Quindi Un ratio 6 Molto molto interessante Però come avrete visto Non ho fatto Una grande partita Al di là Delle uccisioni Che ho fatto Perché Diciamo Il mio stile di gioco Era abbastanza Nabbo Brutto Quindi Adesso Voi vedrete Schermo nero Perché è finito il gameplay E è finita la ripresa Finisco di parlare Dicendovi che Vi prometto Che se metterò Qualche altro gameplay Saranno migliori Sarà Bello Visto Che ad esempio Ieri ho fatto Un 35 Che non sono riuscito A registrare E mi rode ancora Volevo mettervi quello Per il resto Ragazzi Vi ringrazio tanto Per la visione Vi invito a cliccare Mi piace Se il video vi è piaciuto E iscrivervi al canale Se ancora non lo avete fatto Fatemi sapere Mi raccomando Nei sondaggi Cosa ne pensate Del ritorno Di Call of Duty Sul canale Io vi auguro Una buona continuazione E ciao Ciao belli Ciao ciao